Vini, Giannarelli. Per ribadire che voteremo a favore di questo atto, perché da nessuna parte c'è scritto e si fa riferimento al trattato transatlantico, dove noi in tutte le sedi europee stiamo facendo una dura battaglia, perché lo riteniamo un trattato che lede il diritto dei popi, distrugge la filiera corta, la possibilità di avere un'indipendenza alimentare, apre le porte al cibo spazzatura e direi anche al diritto spazzatura. Quindi votiamo, ma ci tenevo a fare questa precisazione.